Nel Cilento, gli studenti del nuovo istituto omnicomprensivo Ansel Keys torneranno a scuola in anticipo rispetto al calendario regionale. Mentre il rientro nelle scuole della regione Campania è previsto per giovedì 12 settembre, l'istituto Ansel Keys ha stabilito di riaprire le aule già da martedì 10 settembre. La scelta è stata comunicata dalla dirigente scolastica, professoressa Maria Masella, tramite una circolare che anticipa l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2024-2025. Questa decisione rientra pienamente nell'autonomia scolastica dell'istituto che ha facoltà di apportare modifiche al calendario scolastico. Gli studenti dei comuni di Casalvelino, Castelnuovo Cilento, Pollica e San Mauro Cilento quindi avranno due giorni di vacanza in meno rispetto ai loro coetanei delle altre scuole della regione. L'istituto Ansel Keys ha anticipato l'inizio delle lezioni per ottimizzare la gestione dell'anno scolastico. È probabile che due giorni in più vengano comunque recuperati nei mesi successivi, bilanciando così il calendario scolastico. In Campania le lezioni termineranno il 7 giugno 2025. Oltre alle festività nazionali, le attività didattiche saranno sospese in queste date. Il 2 novembre per la commemorazione dei defunti, 23, 24, 27, 28, 30 e 31 dicembre 2024 e dal 2 al 4 gennaio 2025 per le festività natalizie. Il 3 e 4 marzo 2025 per il Carnevale, dal 17 al 19 aprile e il 22 aprile per le festività pasquali. Il 26 aprile, sempre del 2025, per il Ponte della Festa della Liberazione. Il 2 e il 3 maggio per il Ponte del 1 maggio. Questi giorni di sospensione delle attività didattiche si affiancano alle festività nazionali già previste dalla normativa.